L'endometrosi è una patologia che colpisce una larga parte di donne in età giovane e in età riproduttiva. L'endometrosi quindi ha un doppio effetto, rende più difficile la vita quotidiana perché l'endometrosi porta a dolore durante le amministrazioni, difficoltà anche a poter andare semplicemente a scuola o a lavorare. In più è una patologia che portando e cronicizzando infiammazioni a livello pelvi, quindi a livello dell'ovaia, a livello della pancia, a livello delle tube, comporta una diminuzione della fertilità per queste donne che molto spesso devono ricorrere a interventi chirurgici per togliere l'endometrosi o dovesse sottoporre a fecondazione in vitro. La fecondazione in vitro è diventata una delle indicazioni maggiori per poter fare figli, quindi diciamo che c'è speranza per le donne affette di endometrosi che spontaneamente non riescono ad avere una gravidanza perché in queste pazienti la possibilità di avere gravidanza è con la fecondazione in vitro è alta e soprattutto è alta se la donna ha un'età di sotto dei 35 anni. Un lavoro che abbiamo presentato peraltro quest'anno al convegno europeo, uno dei principali convegni in questa materia nel mondo, conferma che la capacità degli ovociti delle donne affette da endometriosi, di portare ad avere embrioni che si sviluppano in maniera regolare e danno il percentuale di gravidanza assolutamente nella norma con l'età della donna, è una notizia importante che può così aiutare le donne con questa patologia a pensare che se non riusciranno spontaneamente ad avere una gravidanza possono contare sulla medicina. Ovviamente è importante riconoscere la patologia se possibile sin dall'inizio quindi una delle cose che le giovani ragazze dovrebbero tenere in considerazione è il forte dolore mestruale e anche se la propria mamma ha avuto questa patologia perché molto spesso questa patologia ha una base anche genetica quindi molto spesso le figlie di donne con endometriosi possono avere endometriosi. Quindi molto importante è riconoscerla in anticipo e quindi in qualche modo iniziare poi un percorso diagnostico che se possibile blocchi la patologia e quindi aiuti non solo a non avere dolore durante l'amministrazione ma anche a preservare la propria fertilità successivamente quindi poter non dover avere bisogno di noi medici nella riproduzione successivamente.